Sta partendo un'altra puntata di FWG Tech, io sono l'avatar digitale di Gabriele Gobbo e... No, oggi sono il vero Gabriele Gobbo, vediamo se mio avatar riesce a rubarmi di nuovo il programma, ma io ho installato degli antivirus potentissimi, oggi vogliamo parlarvi del clone di Facebook fatto dall'intelligenza artificiale, lo facciamo con Max Guadagnoli, benvenuto! Benvenuti a voi, sto in mezzo ai guai tantissimo! Eccomi qui, Gabriele Gobbo per voi, sperando che l'avatar non torni dopo la sigla! FWG Tech Un programma di Gabriele Gobbo Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali Ben ritrovati in studio da Gabriele Gobbo, oggi vogliamo... Sono tornato, l'avatar digitale di Gabriele Gobbo che ormai è il padre padrone di FWG Tech Dicevamo, o diceva il mio collega Max Guadagnoli per parlarvi di Facebook ma quello clonato da se stesso e gestito dai bot, ovvero sia intelligenze artificiali Ciao a tutti, la cosa è veramente complicata, sì sì, veramente complicata Oggi proviamo a spiegarvi una cosa complicatissima qui in tv in maniera molto semplice ma prima di tutto dovete sapere che Max Guadagnoli è un digital strategist Gli piace molto studiare quelli che sono gli algoritmi e le storture della rete E oggi, come avete sentito, ci dirà perché Facebook esiste in un altro universo ma sempre qui nel nostro mondo, ma è formato da intelligenze artificiali e quindi dei robot, passatemi il termine, che parlano con altri robot Max, come mai è successo tutto questo? È successo tutto questo perché essendo una piattaforma popolata da un sacco di gente loro hanno la necessità di capire sempre meglio come aggiornare la piattaforma in funzione dei nostri comportamenti Siccome noi siamo molto complicati come esseri umani, molto complicati è difficile correrci dietro non hanno fatto altro che replicare la piattaforma in una specie chiamiamolo metaverso perché è un termine che va di moda in un mondo parallelo, diciamo così l'hanno clonato tecnologicamente solo che poi gli account che ci stanno dentro non sono persone ma sono dei bot che interagiscono fra di loro i bot sono, insomma, deriva da robot e a proposito di robot ce n'è venuto a trovare uno spero non siano tutti così i bot che ci sono dentro un nuovo Facebook perché non funzionerebbe niente ma dove vai? potresti tornare dentro al social network dei tuoi simili grazie vada 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 prego bot e quindi dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi, dei computer che interagiscono con i computer questo è stato fatto perché come diceva ovviamente Max noi esseri umani siamo complessi il social network ha un miliardo, due miliardi diciamo tre miliardi ma poi toglie gli account falsi poi erano quattro, poi tolgo un milione oggi insomma facciamo che sono due miliardi di esseri umani ognuno con la sua storia ognuno col suo cervello che devono riuscire tutti a comunicare uno con l'altro e correrci dietro solo con gli algoritmi è difficilissimo quindi immagino che dall'altra parte dove il virtuale parla col virtuale e poi magari va in crash, non lo so sia più facile capire cosa succede e non vada a creare problemi tecnici nella piattaforma vera che magari potrebbe impazzire un giorno andiamo su Facebook come ogni tanto capita e non funziona niente sì, diciamo anche che è anche meno rischioso sotto un altro punto di vista perché le persone hanno degli interessi veri e propri concreti ci lavorano sulla piattaforma dall'altra parte il ragionamento appunto è virtuale quindi l'eventuale danno collaterale è un danno che si può studiare ma non ha una valenza diciamo concreta rimane a livello sperimentale la cosa molto interessante è che questi bot tra di loro fanno esattamente tutto quello che facciamo noi è incredibile cioè prego eh sì, eh eh sì fanno tutto quello che facciamo noi cioè per esempio aprono pagine le popolano di contenuti aprono gruppi li gestiscono ci tirano dentro la gente interagiscono commentano insultano fanno partire i flame fanno le battute mettono le reazioni fanno campagne pubblicitarie addirittura perché? perché sono tutti test per vedere se la piattaforma effettivamente fa quello che deve non lo fa lo fa male lo fa meglio eccetera eccetera quindi si comportano esattamente come noi sono centinaia di milioni di stringhe di codice ok? replicate che hanno questo scopo specifico ma scusa è una cosa di cui si parla in giro o qualcuno in qualche modo ci ha detto che esiste magari sotto altri termini perché immagino che se lo hanno detto ve l'hanno detto lo stiamo facendo per migliorare la vostra esperienza e portare quello che capiamo dal metaverso così chiamiamolo va molto di moda lo sponsorizzano tanto anche loro eccetera ma comunque si sa è una cosa ufficiale no? è una cosa ufficiale è una cosa che si può trovare tranquillamente sul loro blog ufficiale per l'appunto aziendale ne parlano compiutamente anche a livello progettuale con tutte le questioni ingegneristiche mettiamole così che sono veramente complesse poi magari qualcuno che è più bravo di me le capisce al volo io però mi sono bruciato il cervello per capirle e c'è questa cosa curiosa dove loro parlano di un livello di separazione da quello reale cioè un lawyer che separa i due ambienti e lì però c'è un po' la fregatura è proprio lì che c'è un po' la fregatura quindi in teoria le due cose non parlano una con l'altra da una parte i test da una parte il vero social media vedo che fai dei gesti allora cioè secondo me è tutto molto bello perché lì arriveremo facciamo i test da una parte con l'intelligenza artificiale gli algoritmi i bot e senza rovinare la cosa vera che usiamo ogni giorno ma potrebbe esserci secondo te qualcosa di strano o che potrebbe in qualche modo danneggiarci noi come utenti allora guarda la cosa interessante prima di tutto è una non è secondo me per fortuna l'hanno detto loro così ci siamo levati il problema e non se ne parla più ok allora loro naturalmente fanno il preambolo dicendo che sono mondi differenti che non interagiscono che non c'è nessun pericolo e va bene lo devono anche dire perché sennò si scatena il delirio numero uno numero due quando tu leggi in mezzo alle righette perché sai che loro sono molto bravi a scrivere un sacco di roba quando leggi in mezzo a un certo punto scappa fuori che dice però occasionalmente cioè quando ci serve in realtà il gemello può comunicare con quello ufficiale e che si dice e che si dice per l'appunto quello che fa è che il gemello comunica con quello ufficiale perché ha bisogno di arricchirsi dei dati comportamentali nostri dei nostri atteggiamenti di quello che facciamo eccetera eccetera e di quello che succede di là questo perché perché nella loro teoria praticamente significherebbe io monitoro quello ufficiale noto il cambiamento lo porto nel gemello ok che aggiorna in tempo reale il sistema che usiamo tutti quanti quindi quello che non riescono a fare le intelligenze artificiali del gemello vengono a impararle di qua dagli esseri umani ogni qual volta tutto quanto le intelligenze artificiali hanno risolto per così dire gli servono degli esempi nuovi vengono di qua e vedono come si comportano i veri esseri umani vabbè ma è una cosa normale cioè adesso per capirci l'intelligenza artificiale è un bel termine ma siamo ai livelli che l'intelligenza artificiale che guida le macchine va a sbattere per ora seppur anni luce già da dieci anni fa come funzionamento reale ma non potrà mai da solo un algoritmo essere uguale agli esseri umani quindi si fa costruendo dando gli impasto degli esempi veri cioè quelli che vengono definiti anche big data cioè tantissimi dati presi da un posto da un realissimo database tantissimi esempi tantissime foto tantissimi test insomma una montagna di esempi vengono dati l'intelligenza artificiale che li analizza e impara dagli esempi il riconoscimento facciale anche spesso fanno così gli mettono un miliardo di foto di persone e poi il riconoscimento facciale riesce anzi il riconoscimento fotografico ti può dire questo è un essere umano questo è un cane questo è un semaforo ma cos'è che non ti convince tanto in maniera semplice per favore ok allora se andate su digital swot punto org troverete l'articolo dove io esagero abbondantemente diciamo allora attenzione non andate a leggere l'articolo se siete minorenni o deboli di cuore perché Max si è davvero sfogato e ci sono anche un po' di paroline diciamo così piccanti o come direbbe parolacce sì le cose che non mi sconfinferano come al solito è uno il loro modo di comunicare le cose dove ti dicono che questa cosa non si farà assolutamente e tu hai la certezza matematica che si farà ok la seconda invece è proprio quella dell'interazione con noi umani in che termini se fino ad oggi la presenza di un bot sulla rete era considerata scomoda era considerata una rottura di scatola era considerata un'invasione quasi una fregatura no quasi a volte anche una fregatura adesso ci dobbiamo mentalizzare che potremmo interagire con qualcosa che non è umano è sperimentale e noi non sappiamo proprio con chi stiamo a combattere in quel momento ok quindi se ieri l'account Pinco Pallino che arrivava chiedeva l'amicizia eccetera era un cretino faccio per dire si può dire cretino non si può dire vabbè era un come si può dire un guascone era un guascone va bene adesso invece no ci viene il dubbio che potrebbe essere invece proprio la macchina dall'altra parte che sta facendo questo per assimilare dati e bla 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 il problema qual è il problema è che questa distinzione non è così netta se non sulla carta e credo che nel futuro prossimo la distinzione fra i due mondi in realtà non ci sarà più perché si sovrapporranno totalmente e da lì in poi però le conseguenze non le conosco ma Max se mediamente si va sui social media per svagarsi in un'altra puntata con te abbiamo parlato dei social media utilizzati per delle piccole raccolte fondi per aiutare concretamente le persone questa cosa funziona se ci si mette il cuore le strumenti si possono utilizzare per fare del bene però mediamente vado sui social media per sfogarmi per passare il tempo parlando con altre persone se questi cloni ufficiali tra virgolette nel senso che li infila Facebook dentro Facebook io inizio a parlare con un clone Facebook viene meno la promessa che mi ha fatto promessa in senso lato di vieni sul mio social così parli con le persone e ti diverti viene meno la promessa perché mi farebbe parlare con delle macchine quindi è un po' una mezza fuffa parliamo del futuro non si sa ancora quando ma fuffa io non direi perché sai sono meccanismi che evolvono in funzione degli interessi non è che evolvono così per sfizio il problema è un altro il problema è che è proprio il concetto di social network che negli anni si è sgretolato cioè di social c'è molto poco di network un po' e tutto il resto è all'immaginazione degli ingegneri ok quindi io non discuterei tanto sul nome della piattaforma e sulla piattaforma in sé perché poi alcune logiche vengono replicate anche da altre piattaforme non è che è solo di una no per niente ecco e che succede però succede che è proprio il concetto di social network che se ne sta andando in malora ok quindi poi alla fine io il social network lo ricrevo dentro il gruppetto degli amici miei ma allora perché stare dentro una piattaforma da due miliardi di persone se poi io alla fine posso avere un vero contatto reale diretto con 60 e sono sempre quelli sì 60 se sei fortunato e sono sempre quelli diciamo che ormai dovremmo iniziare a chiamarli come una volta tanti anni fa dei portali perché davvero di social e a parte i soliti noti insomma stiamo sempre a parlare con le stesse persone ma è causa nostra ma forse questo clone queste macchine questi bot che parlano con altri bot nel clone di facebook potrebbero servire a insegnare meglio agli algoritmi della piattaforma a passare in quella vera aiutare me persona a trovare più amicizie non potrebbe davvero migliorare la mia esperienza guarda da una parte sì no sai perché rido rido perché è come quello che prima ti crea il problema e poi ti trova la soluzione no cioè la cosa più interessante qual era era quella di lasciare libera la gente di esprimersi di arrivare a chiunque lasciare le porte e le finestre aperte e poi chi lo merita col suo contenuto va avanti e chi non lo merita se ne va in cantina no e invece no è diventato una specie di slalom tra centomila paletti e ora scappa fuori che mi devono aiutare a trovare nuove persone se mi lasci in pace me le trovo da solo le nuove persone no beh sai le grandi piattaforme devono anche sottostare a dei regolamenti delle leggi diverse per ogni stato e quindi tanti filtri e tanti sistemi li mettono in piedi per non avere problemi legali nei paesi in cui sono quindi cercano di limitare soprattutto le cose più generiche e sappiamo tutti quali sono in questo modo però ci hanno un po' tagliato passatemi il termine la libertà cioè ragazzi la libertà è ben altro che scrivere su un social media capiamoci bene però insomma ogni volta che finiamo su questi social tutto quello che ci arriva viene filtrato dagli algoritmi della piattaforma stessa quindi se decide che questo video siccome parla in maniera un po' diretta della piattaforma stessa non deve essere visto è la piattaforma che decide che tutti i miei amici non debbano vederlo quindi è forse un po' qui l'ingranaggio che si rompe cioè se compro un giornale sfoglio le pagine vedo tutte le pagine dalla prima all'ultima ovvio che non posso vedere due miliardi di utenti non avrei il tempo materiale per farlo ma forse l'algoritmo tentando di farmi felice mi incastra un po' in quello che viene detto ma ho sempre le stesse cose sulla mia home page sì perché in realtà questa famosa bolla noi tante volte ne parliamo ormai è diventato gergale ci stiamo dentro con tutti i panni e purtroppo non se ne esce cioè è molto facile entrarci ma non è facile per niente uscirne e questo è un po' il problema allora da una parte lo fa per farmi contento da un'altra parte lo fa anche perché se io sto in un gruppo ristretto di persone questo gruppo è più facile da studiare ok è molto facile analizzarlo se invece io non mi raggruppo qui c'è anche un pochettino di sociologia spiccia in mezzo ma se io non mi raggruppo è più complicato perché è come se fossimo farfalle impazzive che una vola a destra e una vola a sinistra è difficilissimo da studiare e da diciamo spiegare all'algoritmo che cosa deve fare quando lo deve fare eccetera eccetera se il gruppo è più piccolo è chiaramente più facile ora c'è anche da dire che è tutto correlato alla distribuzione di quello che vediamo in realtà tenerci contenti che poi purtroppo non ci riesce neanche tanto in realtà dovrebbe aumentare la persistenza sulla piattaforma la persistenza si intende quanto tempo ci sprechiamo sopra che ormai è diventato tantissimo ma alla fine di tutti questi giri la piattaforma che vuole farmi contento la piattaforma che si sdoppia per studiare meglio gli algoritmi ma scusa se lancio così una cosa ovvia ma alla fine tutto questo dispendio di energie perché sono davvero se vogliamo parlare in soldi miliardi di dollari che vengono spesi in algoritmi piattaforme studio e software per fare un facebook sempre più diciamo così performante ma alla fine stringi stringi tutto questo viene fatto per guadagnare i dindini perché ogni azienda privata alla fine deve guadagnarli e attenzione non sto dicendo che è sbagliato guadagnare i soldi tutti noi facciamo il nostro meglio per guadagnare dei soldini quindi l'impresa privata è giusto che monetizzi in questo caso forse sta piegando un po' troppo sta tirando un po' troppo la corda secondo te in 20 secondi guarda innanzitutto non è una piattaforma ma è un ecosistema quindi il discorso è molto più ampio e complesso le fonti di reddito sono tantissime una delle fonti di reddito è la pubblicità che ci ciucciamo tutti i giorni e che passa lì davanti quella è sicuramente una ma non è l'unica ce ne stanno molte altre perché sappiamo che facebook per l'appunto ha degli interessi finanziari c'ha un marketplace che funziona molto bene fra l'altro marketplace significa un posto dove si vende la roba per capirci usata nuova quello che è guadagna facebook però dal marketplace guadagna dal fatto che noi ci andiamo ci stiamo e anche lì bene o male abbiamo modo quindi per stringere monetizza il tempo che stiamo sulla piattaforma è la nostra attenzione la nostra attenzione produce soldi la nostra attenzione produce soldi è così va bene se non guadagni soldi non può sviluppare se non sviluppa chiude se chiude noi dobbiamo andare su tiktok va bene allora battuta a parte max il tempo è davvero finito sarò brevissimo scusatemi grazie mille max guadagnoli social media strategist ciao a tutti e grazie di aver retto fino a questo punto Gabriele Gobbo ovvero l'avatar digitale di Gabriele Gobbo che non esiste più soprattutto su FVG Tech vi saluta ricordandovi fvgtech.it un sito web normale standard tranquillo facile da usare per guardare oltre 100 puntate in archivio ascoltare le nostre trasmissioni radio e scaricare il magazine gratuito che sta per uscire in una nuova edizione Gabriele Gobbo il suo avatar per meglio dire vi deve salutare l'appuntamento per la prossima settimana grazie a tutti FVG Tech un programma di Gabriele Gobbo ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali guarda il programma on demand su web youtube facebook e tutti i social network www.fvgtech.it